Oggi, a un libro in tre minuti, arriva ai treni non esplodono. Storie della strage di Viareggio, di Federico Di Vita e Ilaria Giannini, per Piano B Edizioni. Questo libro ci porta direttamente a Viareggio, nella notte del 29 giugno 2009, alle 23.48, quando il treno merci 50325, che trasporta 14 vagoni cisterna carichi di GPL, entra in stazione, ondeggia, barcolla e 400 metri dopo, deraia. Da un foro, da uno squarcio, nella prima cisterna fuoriesce il gas, che si espande tutto intorno, come una nebbia portata dal vento. Entra nelle case, dalle finestre, dalle porte, entra nei cortili. Poi esplode. In via Ponchielli sono tre, le palazzine completamente rase al suolo. La strada è incendiata e distrutta. Undici persone perderanno la vita quella notte, altre 21 nei giorni a seguire, per le ferite e le ossioni riportate. Una strage, ancora senza colpevoli. I trani non esplodono, raccoglie le testimonianze di chi ha vissuto la strage di Viareggio in prima persona, di chi era lì quella notte. Cinque deposizioni e 14 storie, dure, anzi durissime, come quella del pompiere Antonio Cerri, il privo ad arrivare lì, quella sera, sul luogo dell'incidente. E poi Daniela Rombi, madre di Emanuela Menichetti, che ha fondato l'associazione dei parenti delle vittime della strage, il mondo che vorrei. Sono sue le parole che danno il titolo a questo libro. E poi ci sono le storie degli ustionati, che porteranno indelebili segni di questa strage. E le testimonianze che non ti aspetti, come Raffaele Matroni, che iniziò a salvare quanti più animali possibili da questa strage. E la testimonianza astruggente di Falorni, che le provò tutte per trovare i resti del fratello, rinvenuti solo molti giorni dopo, grazie a una scia di formiche. Gli interrogativi sono ancora tanti e il processo per la strage di Viareggio è ancora in corso. Ci sono voluti ben sette anni per arrivare in primo grado e chissà quanti ce ne vorranno per arrivare in secondo. E si rischia una prescrizione e i parenti delle vittime hanno proprio paura che accada questo. I treni non esplodono, ci restituisce quella memoria umana e allo stesso tempo fondamentale per fare giustizia sulla strage di Viareggio. E pagina dopo pagina ci porta lì, nel bel mezzo delle vite degli altri, dove il dolore degli altri si trasforma nel nostro dolore e le speranze, il coraggio e il bisogno di avere risposte diventa un nostro bisogno. Viaggiando tra le pagine di questa memoria collettiva, intima e corale allo stesso tempo mettiamo un tassello fondamentale per la storia della città di Viareggio, per la storia della Toscana e di tutta l'Italia, per la nostra storia. Alla prossima settimana con un libro in tre minuti.